Grazie. Il mister viene dopo. Possiamo cominciare con le domande per Anghissà. Credo che sarà un giro, come hai detto, e siamo venuti qui per giocare. Abbiamo fatto tutto per giocare, giocare come una squadra, come la famiglia che siamo. E sappiamo che sarà difficile perché è una buona squadra, hanno molto qualità. Sì, sarà una partita molto difficile. Però, per essere preciso, siamo qua per vincere. Vogliamo vincere come la squadra e la famiglia che siamo. Per forza sarà difficile perché anche loro sono una brava squadra. Non dimenticare che il Rangers gioca a casa. Dobbiamo essere focalizzati e dimenticare la partita contro il Liverpool. Andiamo passo a passo. Però non dimenticare che anche il Rangers è una brava squadra. Radio Ghis Kis. Salga Ghisar, quella con Liverpool è stata la sua prima partita in Champions. È stata una delle più belle sicuramente che ha giocato qui a Napoli. Invece tra tutte quelle che ha giocato è stata tra le migliori della sua carriera? Grazie. È stata la mia prima partita in Champions. È stato molto felice perché, come hai detto, è stato un buon lavoro. È stato felice perché la mia squadra ha giocato questa squadra. Per me è la più importante. La più importante è la squadra. E io voglio continuare così. Se il team giocato, mi giocato, per esempio. So, io spero che lo stanno continuare così. E, come ho detto, vi voglio perdere questo gioco. E facciamo per la mia squadra. È stata la mia prima partita nella Champions. La questione è stata la mia prima partita nella Champions. L'essere è stata la mia prima partita nella Champions. Io sono molto contento, io sono contento perché abbiamo vinto, però la cosa più importante per noi è che la squadra ha vinto. Quando la squadra gioca bene, anche io gioco bene, però continuiamo così, ma non dimenticare che la partita domani è contro i Rangers. Gazzetta dello Sport. Rispetto all'anno scorso, è cambiato qualcosa per te? Ti vediamo più decisivo negli ultimi 20-30 metri. L'assist per l'Asteria a Roma, il gol particolarmente bello con l'Ivercule. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa in te nel modo di giocare per vederti più protagonista negli ultimi 20-30 metri? No, io credo che continui a giocare come l'anno scorso. L'anno scorso 1-2-3 gols e fare alcuni, solo perché non è successo, ma non è cambiato nulla. La squadra è. Ciò c'è un'anno scorso 2-30 metri lo scelte e la vostra campana. Ciò di avere più confidenza, perché sono un'anno scorso, uno dei nostri leader del alzano. Inizio delle cose possono farmi cambiare, ovviamente. ma non credo che ho cambiato molte cose. Sono i stessi giocatori. Io gioco con i quali, e ho saputo che posso scorrere, posso fare alcuni assisti, ma il mio primo lavoro non è per farlo. Abbiamo giocatori, abbiamo offensi, e io voglio fare il mio lavoro. Scorre un gol o fare alcuni assisti, ma questo non è più importante. Lo più importante per me è di venire con il mio team. La questione è che cosa ti credo ha cambiato? Come hai cambiato in l'anno? Come hai cambiato in l'anno? Come hai cambiato? Per quanto riguarda l'anno scorso, io dovevo segnare di più. Però io non credo di aver cambiato tanto. Io lavoro duro ogni giorno. oggi mi sento più sicuro di me, perché la squadra e il mister mi aiutano a cambiare un po'. Di nuovo io non ho cambiato molto. Siamo gli stessi giocatori. Io so che io posso segnare. Però abbiamo anche gli attaccanti. Io voglio soltanto giocare bene e vincere è sempre la cosa più importante. in mattina. Ciao, Frank. Sì. 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 All uh... Sì. 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 One of the players track to win this game. Sì. 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 La risposta, anche io sono d'accordo, ho visto i video, i clip qua e sono sicuro che sarà un'atmosfera incredibile, però siamo pronti, è importante non sbagliare o pensare che siamo qui solo per vincere, che sarà facile, Sì, lo sappiamo che anche loro è una grande squadra, però dobbiamo rispettarli, dobbiamo giocare come una squadra, dobbiamo giocare con rispetto perché non possiamo pensare che sarà una partita facile, tutto può succedere. Andre Frank, l'atmosfera di tomorrow sarà un'unica per un gioco di Champions League, se ci sono solo i nostri spettatori. Has there been a lot of chat amongst the squad about the importance of togetherness in particular for this game, considering you will have no Napoli supporters at this match? Yeah, you know, it would be hard to play without them, but we know that they're with us and we have to get our best for them also, because we know that they continue to push us even if they're not here, but in our hearts, we know that they're with us. So, our job is to give everything for them because we know that they push us, they will push us even if they're not in the stadium. And for me, if they're here or they're in Napoli, we know that they're with us and for that we have to give our best for them also. Allora, cosa ti aspetti dall'atmosfera, sarà unica anche del fatto che non ci sono i vostri tifosi? Che cosa pensi tu e anche la squadra del fatto che non ci saranno i tifosi? Ovviamente è difficile giocare senza i nostri tifosi, però sono sempre con noi. Ci spingono sempre, anche se non ci sono proprio lì, che qui. Dobbiamo lasciare tutto sul campo, tutto contro i Rangers e per me, se i tifosi sono qua o in Italia, sono sempre nei nostri cuori. It's ok, other question for Languistan? Calcio Napoli, 24. Ciao Frank, volevo chiederti se personalmente ti senti nel miglior momento della tua carriera e se è anche una piccola rivincita nei confronti della Premier che non ha credito in te, fortunatamente aggiungo io e ti ha fatto arrivare qui a Napoli. I don't really know if it's the best moment of my career, but I think when you do this job you have to continue to improve, to work hard to improve, because in football you always learn. so that's what I'm trying to do, so I cannot tell you that it's the best moment of my career. I'm happy to live what I live, so it's not a revenge, it's not a revenge, because in football everything can happen. You can be here and after I'll be here, so I'm taking this life, this football. The question was about, personally, do you think this is the best moment of your career, especially being in other clubs or in other leagues where maybe they feel like they haven't believed in you as much? Io non lo so se questo è il momento più bello della mia carriera. Per essere giocatore è importante credere e migliorare ogni giorno. Io non posso dire che è il momento più bello della mia carriera. In football, in calcio, tutto può succedere. Ok, grazie, grazie Frank. Ciao, grazie.